Ciao a tutti dormiglioni, come state? Spero tutto bene, io sono Luca, benvenuti o bentornati sul mio canale, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi. Questa sera, come vedrete, abbiamo due microfoni e proverò a farvi rilassare con qualche suono bineorale, ovvero con una differenza tra un orecchio e l'altro. Personalmente trovo molto, molto, molto rilassante questo genere di video, e spero che possa piacere anche a voi. Il primo trigger che farò questa sera è un po' di brushing, prima su un orecchio e poi sull'altro. Naturalmente non sarebbe brushing senza il pennellino. E allora comincia, prima su un orecchio. e poi sull'altro. Non so se è solo una mia impressione mentre registro, ma forse questo paravento fa sentire di meno il brushing. e poi torniamo da quest'altra parte. facciamo un bel massaggio alle orecchie, anche se devo dirvi che lo preferivo fatto con le mani. E visto che nessuno ci obbliga, possiamo proseguire a farlo in questo modo. devo dire che avere a disposizione i tuoi microfoni rende questa tipologia di video molto più rilassante, più interessante secondo me. E forse anche più facile da registrare. prima un orecchio. E poi l'altro. prima un orecchio. E poi l'altro. diciamo che più che brushing, forse è un massaggio vero e proprio alle vostre orecchie. naturalmente se volete un'esperienza di ascolto full immersion e super rilassante, inlassate le vostre cuffiette. e naturalmente avrete un'esperienza molto molto più rilassante. il secondo trigger che vi porto è la carta delle scarpe. L'avete già vista in passato, anche in qualche live. quindi questa sera ve la porto col pinaurale. è un'esperienza di assoluta. Meno male che cambio scarpe su dente, così posso avere il cambio di questo Questa carta che era consumata con tu prima Non provate il rilassante anche per vero? A me distende tantissimo, o forse è complice l'orario in cui registro questo video? A me distende tantissimo Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate? A me distende tantissimo 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 E come ultimo trigger un po' di tapping Fatemi A me distende tantissimo 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 A me distende tantissimo